In diretta via satellite, al cinema, solo mercoledì 6 novembre alle 20.30, rivivi insieme a Marco il viaggio, ripercorrendo le tappe di un anno unico. Siamo arrivati a questo Sanremo con un nuovo progetto. 9 dischi di Platino, 7 Wynn Music Awards, unico vincitore italiano del Best European Act di MTV, 40 date sold out nel 2013 con 100.000 spettatori, rivelazione dell'Eurosong 2013, vincitore dell'ultimo festival di Sanremo. L'artista dell'anno, Marco Mengoni, la sua musica, le vostre emozioni. Rivivi insieme a Marco un anno unico, un anno pronto a correre. Ricorda, mercoledì 6 novembre alle 20.30, il viaggio continua, al cinema, con Marco. Pronto a correre, il viaggio, 6 novembre, al cinema.